Non è il governatore. È il presidente. Sì, signor presidente. Sono Macete. Addestrato a uccidere. Dato per morto. Macete! È tornato. È l'ora del taco. Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Sofia Vergara, Amber Heard, Lady Gaga, Antonio Banderas, Cuba Gooding Jr., Jessica Aula, con Damian Bisher e Mel Gibson. E per la prima volta sullo schermo, Carlos Esteres. Sono il presidente degli Stati Uniti. Prendiamoli a calci nel culo. Macete. Kills. Macete! Ha! Ha! Ha!